Siete pronti per vedere questo personaggio di ghiaccio? Gabriel Osta ve lo farà vedere, ma non si tratta di Mr. Freeze, si tratta di una pericolosa donna di ghiaccio che vi vuole congelare e rompervi mille pezzi, ma lo sapete già di chi sto parlando? Di Killer Frost, la più pericolosa di tutti. E poi, vede visto come sono i suoi capelli? Ha le labbra blu, è sempre vestita di blu, e poi sopporta bene il freddo. Non è mai stata buona in vita sua, davvero. È sempre attiva anche una spietata assassina congelante, che fa degli attacchi glaciali. Ora vi facciamo vedere Killer Frost in versione dittatura. Anche lei ha poche skin alternative come Black Adam. Guardate, può anche volare. Ha pochi capelli in versione dittatura. L'avevamo affrontata nel quinto e nel settimo capitolo della modalità storia, quando si usava freccia verde e dead stroke. Abbiamo visto poco di Killer Frost, va bene lo stesso. Se questa video recensione vi è piaciuta tanto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate. Altri video vi aspettano e poi ci sono altre statuette, tutte nuove da farvi vedere. D'Injustice, ovviamente. Grazie. Grazie.